Come Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità abbiamo celebrato la giornata mondiale della vista per sottolineare l'importanza di curare i nostri occhi, di curare la nostra vista. E la cura consiste innanzitutto nel diagnosticare per tempo eventuali patologie. Ecco, l'importanza della prevenzione, che è fatta non solo di informazione, conoscere quali sono le patologie, ma è fatta anche di atti concreti, ovvero controlli oculistici periodici. E questi controlli debbono essere effettuati dall'oculista. La popolazione sta invecchiando sempre di più, si allunga la vita media di ciascuno di noi e quindi è fondamentale investire nella prevenzione. Le risorse economiche debbono essere valorizzate, ce ne sono poche, ma debbono essere investite soprattutto in prevenzione, perché la prevenzione permette di risparmiare poi sulla spesa pubblica. Ecco, la vista è importantissima, perché la vista ci assicura l'autonomia, ci assicura l'indipendenza. Una popolazione in Italia che sta invecchiando e che dunque ha sempre più bisogno di prevenzione e di cure. Prevenzione e cure, ma anche per salvaguardare il nostro sistema sanitario. Diversamente non ce la faremmo a poter reggere, considerando la popolazione anziana che invecchia, a poter reggere i costi. Ma noi, dalla nostra esperienza, perché la carovana della salute si sta spostando in tutta Italia con oltre 16 tappe, ci siamo resi conto che in realtà incontrando le associazioni, incontrando i medici, molto si può fare con la prevenzione. La prevenzione è essenzialmente partecipare agli screening che esistono, perché la sanità italiana è sana e ha un buon programma di prevenzione e uno stile di vita corretto. Quindi queste giornate in piazza servono essenzialmente per motivare le persone, perché si può vivere bene e si può vivere a lungo. Quello che noi diciamo è che chiediamo da queste giornate una cura, una cura che viene prescritta a tutti, soprattutto ai sani, la prevenzione. Quindi grazie, venite tutti in piazza a Pescara per la carovana della salute. Screening ed esami ed informazioni mediche del tutto gratuite, grazie all'FNP.